Buongiorno, benvenuti a questa zuppa di porro di oggi. Vi ricordo che stasera alle 21.30 su Rete4 c'è Quarta Repubblica e mi raccomando cercate di esserci. Vedrete che questa sera ci saranno tante sorprese, sarà una puntata molto interessante. Il tema di questa sera sarà il decreto sicurezza, peraltro che è il tema di queste ore, perché il Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto affrontarlo stamattina alle 10, è partito in ritardo e mi sembra che non ci sia tutto quell'accordo che si immaginava sul decreto sicurezza. Oggi i giornali già danno qualche indiscrizione sui motivi per i quali ci potrebbero essere delle frizioni. Il Corriere della Sera con la Sarzanini ci spiega quattro punti critici. La prima è la necessità e l'urgenza che giustificherebbero un decreto legge e secondo quello che c'è scritto nel documento che accompagna il decreto legge, la necessità e urgenza non arriverebbe tanto dall'immigrazione o dalla necessità di sicurezza, perché si potrebbe subire l'iter di una legge ordinaria o di un disegno di legge governativo, ma la necessità e l'urgenza nascerebbe dal rischio terrorismo, un escamotage per poterlo far approvare immediatamente. Mi chiedo quale sia stata la necessità e l'urgenza del decreto dignità che è stato approvato e avrà quegli effetti negativi sul mercato del lavoro che ben ho ricordato. In maniera un po' presuntuosa io so che quella è una schifezza tale per quale evidentemente c'era necessità di un'urgenza, mentre qua sulla sicurezza no. La seconda questione è la protezione umanitaria che sarebbe più difficile e sarebbe stata cancellata la protezione umanitaria ai cosiddetti profughi vacanzieri, cioè c'era una categoria di persone che chiedeva la protezione umanitaria e poi in vacanza tornava nel suo paese e allora scusatemi se devi essere protetto perché torni per le feste nel tuo paese dove ti vogliono fare un mazzo così, evidentemente c'era una contraddizione, ma resta l'idea che la protezione umanitaria che io ho letto oggi in un giornale essere propria soltanto dell'Italia e di un altro paese d'Europa sia da ridurre il più possibile. Questa era l'idea di Salvini, l'idea dunque che però è in discussione. Poi c'è un'altra questione molto calda che forse è la più importante, cioè la revoca del permesso di rifugiato a coloro che siano stati condannati in primo grado. L'idea iniziale, porro sul rete quarto, riguardi da solo, perfetto. L'idea iniziale era quella che si potesse cacciare, togliere il permesso di rifugiato a coloro che addirittura erano stati indagati. In realtà poi è cambiato perché era del tutto, dicevano i tecnici, incostituzionale e si è deciso di mandar via e di togliere il permesso di rifugiato a coloro che sono stati condannati in primo grado, che mi sembra una cosa del tutto ragionevole, non stiamo condannando le vite, stiamo dicendo guarda sei stato condannato in primo grado, ritorna il tuo paese. Non è che li stiamo mettendo in galera, non riesco a capire, qui non c'è il garantismo. Nella difesa delle proprie confini, della propria terra, il principio non è il garantismo, il principio è garantire la sicurezza degli italiani con un principio di precauzione banale. Quarta vicenda è la revoca della cittadinanza per gli stranieri condannati per minaccia alla sicurezza nazionale. Ed è un'altra questione che l'unico dubbio che io ho è quante persone riguardano queste norme e che altro c'è nel decreto sicurezza e immigrazione che dovrebbe essere licenziato appunto oggi dal Consiglio dei Ministri, di cui parleremo questa sera a Quarta Repubblica. Di Maio, intanto intervistato dal Fatto, dice beh io su alcune di queste cose non sono d'accordo ma ne parleremo in Parlamento, nel senso che probabilmente questa cosa poi si discuterà in Parlamento e si vedranno quali sono le maggioranze che si ritroveranno in Parlamento. Ma la cosa interessante di Di Maio oggi riguarda l'intervista tutto tondo, sulla Fer Casalino dice ma c'è gente che ci rema contro, abbiamo... e la cosa secondo me più interessante che dice Di Maio, e ne sono abbastanza convinto, sapete qual è? Dice molti, gli chiedono molti anche dei deputati del Movimento 5 Stelle, si sono lamentati per il modo di Casalino di dire attribuisce a fonti parlamentari questa roba qua e poi dice ci sono dei pezzi di merda... Di Maio nell'intervista dice ma scusa i nostri parlamentari si scandalizzano per il gergo di Casalino però vorrei ricordare loro che sono stati tutti quanti eletti grazie all'esistenza di un Movimento che ha fatto il suo successo dicendo vaffanculo. E devo dire che abbastanza questa frase di Di Maio mi trovo del tutto, del tutto convinto che lui abbia ragione. Cioè insomma adesso che facciano gli schizzinosi parlamentari, a parte il fatto che io direi che le conversazioni private, io ne so qualcosa, esce di tutto e puoi dire di tutto e quindi il problema non sono le conversazioni private. Io trovo questa una tempesta in un bicchier d'acqua anche se oggi Sallusti ritorna e dice che è gravissima e che non si può neanche parlare di fascismo dei grillini perché secondo lui nel fondo di oggi di Sallusti Di Maio non potrebbe neanche fare il cameriere del Duce e Rocco Casalino non potrebbe neanche fare il suo stagliere. Questa è la tesi di Sallusti. Io continuo a pensare garbatamente in dissenso con Sallusti che questa è una non vicenda. Ma comunque sia, l'intervista di Di Maio al Fatto dice un'altra cosa e dice che lui farà sicuramente le 780 euro di pensioni di cittadinanza e di reddito di cittadinanza a tutta la platea, esclusi gli immigrati come dice avevamo già previsto. Però gli si chiede come lo fai ma insomma faremo più deficit. Quindi io finanzierò, noi finanzieremo le pensioni di cittadinanza e finanzieremo il reddito di cittadinanza indebitandoci di più visto alla montagna di debite che abbiamo. Cioè i debiti che noi facciamo sono per dare un sussidio, non per ridurre le tasse, non per fare investimenti. Per dare un sussidio se questo per voi è una cosa intelligente non c'è bisogno di essere un laureato in economia cioè tutti indebiti, io mi indebito per comprare una casa perché mi serve per vivere, io mi indebito perché voglio sviluppare il mio negozio, io mi indebito invece secondo lui, sapete perché cosa? Per comprarmi, insomma, delle cose superflue oppure che non abbiano nessun riscontro nel futuro come ritorno economico. Perché questo è la pensione di cittadinanza e il reddito di cittadinanza con centri dell'impiego come scrivo io oggi sul giornale totalmente assenti saranno quello che loro dicevano, cioè aiuti a persone che stanno sul sofà perché nessuno glielo toglierà, perché nessuno potrà controllare. Tria insiste secondo Repubblica a mantenere il deficit dell'1,6%, intervista a Brambilla oggi sul Libero che dice anche lui che il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza sono delle follie. Vi segnalo tutta la questione della banda dell'Est secondo alcuni che avrebbero fatto l'arancia meccanica ieri a Lanciano e qui c'è il grande tema, l'offronto a Zurlo, l'offronto a Belpietro, l'offronto in molti sul fatto che si dice che i reati in Italia sia in calo. Secondo una tabella del Corriere del Senato nel 2012 c'erano 3400 rapine in casa, scese nel 2016 a 2562. Ma molti, sia Zurlo sia il Corriere, dicono che in realtà sono divunite le denunce, anche se secondo me la cosa fondamentale è che le rapine oltre a calare le denunce sono diventate molto più violente rispetto a quanto lo fossero in passato. Berlusconi si candida alle europee, il tempo titola Mi consenta, Libero, Grillini, peggio dei comunisti. Questo è il tema. Hug, Giorgio, sei arrivato un po' di tardo oggi, quindi Berlusconi si candida alle europee. Io penso soltanto una cosa su Berlusconi che si candida alle europee. Berlusconi ha ancora un suo grande pubblico, persone che lo seguono e lo votano nonostante tutto e nonostante il tempo passato. Mi chiedo, cosa sarebbe il partito senza Berlusconi, candidato alle europee? Quanto prenderebbe forse Italia senza Berlusconi e alle europee? No, perché io vedo questo grande partito, quanto male il partito senza Berlusconi? Forse una volta provarlo alle europee, un'altra volta provarlo perché è successo anche alle politiche, ma alle europee, piazzarlo capolista in tutta Italia, forse darebbe ancora un'idea un po' drogata del valore del partito. Ma questa è un'idea, diciamo, un po' folle che mi è venuta in mente. Sul ponte di Genova è la follia più totale, forse il giornale che oggi ne parla meglio è il secolo XIX, il governo sfida l'Europa, cioè dice no a gara europea, una delle ottime sfide di questo governo secondo me, che è l'affidamento diretto del ponte senza seguire tutte le regole europee. Se riuscisse veramente a farlo dovrebbe incorrere un'infrazione, ma sono anche dell'idea, cavolo, che una volta sull'urgenza possiamo anche fare subito senza perdere tempo. Però è anche vero che tu puoi fare l'affidamento diretto, puoi fottere l'Europa nel senso di non fare una gara in cui inviti tutti quanti i concessionari, tutti quanti, a parte il fatto che io non riesco a capire perché non si possa fare una gara europea dicendo tu entro tre giorni devi farlo, la proposta. Ma la vera questione è, questi vogliono velocizzare e tirar fuori l'Europa dalle gare europee, ma ancora non hanno firmato il decreto, ancora non abbiamo il commissario per il decreto, ancora non sappiamo se si deve demolire il ponte, ancora siamo lì con gli spollati, cioè mi sembra una presa per i fondelli, come il XIX sta dicendo. Tra l'altro il XIX oggi ricorda come ci siano 13.000 imprese che siano state più o meno colpite dal crollo del ponte. E comunque, un'altra cosa straordinaria è che il governo aveva subito individuato qualcuno che doveva fare il ponte Fincantieri che è esattamente quella che non la può fare. Lei e la sua controllata non hanno la SOA, l'abbiamo visto nei giorni scorsi, non hanno l'abilitazione per costruire punti di quelle dimensioni, punto! Ci sono 830 società in Italia che possono costruirli tranne Fincantieri. Questo mi sembra un governo non di inconcludenti, non di incompetenti, ma su questo obiettivamente la tesi del Corriere un po' divisi, ragazzi siete, perché qua su una cosa che doveva essere un'emergenza nazionale vera, non avete ancora neanche prodotto un pezzo di carta che mi dia un commissario e un iter per capire se effettivamente il ponte entro un anno riusciamo a rifarlo, cosa di cui oggi molto dubito. Questa sera è Quarta Repubblica, 21.30, Rete 4, non mancate, molte sorprese, grandi ospiti, ve ne parlerò più tardi. Ma chi è sto Giorgio? Un pelli rossa? Chi è sto Giorgio? Ah, Giorgio, Giorgio, tocchi, come chi è? È uno che mi segue con Françoise, con Rita, con tanti di voi dal primo giorno e sempre mi saluta Aug, un pelli rossa Aug e quindi con la Aug vi do appuntamento a questa sera. Ciao!